Spiegazione e previsione dal problema della previsione. La lingua italiana non ci aiuta molto e anzi spesso è fonte di confusione perché in italiano disponiamo di un solo termine, previsione appunto, per indicare due cose sostanzialmente diverse. La lingua inglese invece usa due termini diversi, forecasting e prevision. Il forecasting consiste nella individuazione di tendenze in atto, per esempio le previsioni del tempo. La prevision invece è la previsione scientifica in senso proprio, ovvero la prognosi condizionale. Una prognosi condizionale ci dice che se si manifesteranno certe condizioni, allora si verificherà un certo evento. La mia tesi è che nel caso delle scienze umane e sociali le previsioni intese come forecasting, anche se con forti limitazioni, come poi dirò, sono senz'altro possibili. Sono invece rare e poco affidabili le previsioni intese come prognosi condizionali. Molti dei miei amici economisti non lo credono, pensano che la loro sia una scienza eminentemente predittiva, ma secondo me, per le ragioni che vi dirò, si sbagliano. Vengo adesso al caso della spiegazione. Spiegare, sia nel linguaggio ordinario che in quello scientifico, può significare due cose diverse. Può significare rispondere o tentare di rispondere a domande sul perché, le why questions, perché, oppure a domande sul come. Ci chiediamo perché è accaduto un certo evento, oppure ci chiediamo come, attraverso quali processi si è arrivati a un certo esito. Come vedremo fra poco, c'è nelle scienze sociali anche un modo di intendere la spiegazione che di fatto fonde, unifica le due domande. La spiegazione che viene detta, e poi vi dirò di che si tratta, spiegazione tramite meccanismi, unifica il come e il perché. Ricostruire i processi che hanno condotto all'evento spiega anche, in questa prospettiva, perché l'evento si sia verificato. Le scienze sociali sono state a lungo dominate dall'idea che spiegazione e previsione, intesa quest'ultima appunto in senso forte come prognosi condizionale, fossero strettamente connesse. Questo era un portato dell'influenza delle scienze naturali sperimentali, e in particolare della fisica, sulle scienze sociali. O meglio, dell'influenza delle scienze naturali sul modo in cui le scienze sociali intendevano se stesse e i propri scopi. Qui l'idea era sostanzialmente che spiegare significasse fare ricorso a leggi. Si parla di spiegazione tramite legge di copertura. Spiego l'evento facendo ricorso alla legge appropriata. E prevedo l'evento nello stesso modo. Spiego la caduta di un corpo mettendo in gioco la legge di gravità. E sempre facendo riferimento alla legge di gravità, prevedo la caduta di un corpo. Con lo stesso procedimento si spiegano gli eventi passati e si prevedono gli eventi futuri. Ma, una volta caduta l'esigenza delle scienze sociali di imitare, qualcuno dice scimmiottare, le scienze naturali, si è dovuto infine riconoscere che la spiegazione tramite legge di copertura non ha corso nelle scienze sociali. Quando ci occupiamo del mondo umano e sociale, dobbiamo accettare il fatto che non disponiamo di leggi. Nelle scienze sociali possiamo ricorrere, questo sì, a regolarità empiriche, vedremo che sono importantissime, che non sono altro che generalizzazioni induttivamente costruite. Possiamo solo affermare che sulla base dell'esperienza disponibile poniamo nel 60% dei casi a un qualche A e il risultato associato a un qualche B. Ma poiché una generalizzazione di questo tipo non è una legge, paragonabile alla legge di gravità, viene accadere l'idea della spiegazione tramite leggi e viene accadere l'idea che spiegazione e previsione siano operazioni strettamente connesse. Faccio notare una ricaduta interessante, di cui ho diretta quotidiana esperienza come qualunque economista, sociologo, politologo, eccetera. La ricaduta di questa idea della connessione tra spiegazione e previsione sul pubblico. Spesso le persone quando si trovano a incontrare un esperto, un economista, un politologo, non gli fanno la domanda che è lecito fare. Perché è accaduto quello che è accaduto? Perché esplosa la crisi mondiale? O perché il sistema politico italiano o il sistema politico francese o quello che vi pare ha assunto le caratteristiche che ha assunto? La domanda che normalmente le persone fanno è una richiesta di pronostico. Che cosa accadrà? Che è esattamente ciò per cui l'esperto, nonostante quello che pensa il pubblico, è meno qualificato a rispondere. Sui pronostici, come vedremo adesso, vedremo alcune delle ragioni, non tutte, per ragioni di tempo devo tagliare, quindi sarò molto schematico, i pronostici sono la cosa meno affidabile della scienza dell'esperto in questione. Spezzando il legame fra previsione e spiegazione, ci troviamo a dover riconoscere che a volte riusciamo a spiegare un evento ex post senza essere però in grado di prevederlo. E altre volte, accade anche questo, riusciamo a prevedere un qualche evento senza essere capaci di spiegarlo, perché per esempio non disponiamo di una teoria che spieghi l'evento. La principale ragione, o perlomeno una delle più importanti ragioni, che rendono difficilissima la previsione, ha a che fare con quella che possiamo chiamare l'indeterminazione della maggior parte delle situazioni sociali. È vero che esistono anche situazioni, molte situazioni, con un basso grado di indeterminazione. Si tratta dei cosiddetti giochi bloccati, nei quali gli attori, consapevolmente o meno, ripetono sempre le stesse mosse. E quindi i rapporti sociali si riproducono identici perché le persone sono dentro una sorta di gioco bloccato. E la cosa continua fin quando non cambiano alcune delle condizioni che definiscono il terreno e le regole del gioco. Pensate a come si strutturano i rapporti all'interno di una famiglia, per esempio. Sono rapporti consolidati, restano uguali, le persone interagiscono allo stesso modo per un lungo periodo di tempo. Osservando quella famiglia, dopo un po' è possibile ricostruire le regole del gioco. Ma mettiamo a che accada un evento. Per esempio, il primo genito si sposa, va fuori dalla famiglia. Le relazioni all'interno della famiglia si ristrutturano. Il gioco che era chiuso diventa di nuovo aperto ed è alla ricerca di un nuovo equilibrio. Che tipo di equilibrio ci sarà, questo non lo possiamo prevedere. Però molte situazioni sociali, e spesso le più importanti, non sono di questo tipo. Sono caratterizzate invece da un alto grado di indeterminazione. Molte situazioni sociali, ad esempio, sono giochi strategici, fra attori che sono tra loro interdipendenti. L'esito del gioco, quindi, non dipende dalla strategia di un singolo attore, ma dall'incontro-scontro tra le strategie di una moltiplicità di attori che partecipano al gioco. Queste situazioni sociali, che sono diffusissime, vengono dette anche a equilibri multipli. Significa che il gioco ammette sempre diverse possibili soluzioni. Che spazio resta allora alla previsione delle scienze sociali? Come controllare la fortuna, o come perlomeno mantenere un certo grado di controllo sui tanti effetti che le nostre azioni producono. Le nostre azioni producono a volte l'esito che vogliamo produrre, e a volte no. Ma sempre, sia nel primo caso che nel secondo, producono anche una cascata di conseguenze non intenzionali su cui abbiamo scarso controllo. Allora, qual è lo spazio per la previsione delle scienze sociali? Fondamentalmente uno spazio limitato, secondo me. Intesa come prognosi condizionale, se ho in senso forte, la previsione è talvolta possibile, ma solo nella forma, o perlopiù, nella forma di previsione negativa. Non sono in grado di dire se ad A seguirà B. Posso solo in certi casi affermare, alla luce dell'esperienza e o di una qualche teoria, che se si verificherà A, allora non si verificherà B. Il che però naturalmente lascia indeterminato l'esito, perché può benissimo verificarsi C, D e F. Posso senz'altro escludere, ad esempio, sulla base dell'esperienza storica, ma anche delle più consolidate teorie della democrazia, che senza economia di mercato possa sussistere una democrazia di tipo liberale. Ma non posso prevedere quale altro tipo di regime politico si affermerà. A parte le previsioni negative, c'è certamente spazio per la previsione intesa come forecasting, come individuazione di tendenze in atto. Ma bisogna però anche sempre essere consapevoli dei limiti del forecasting. Le tendenze in atto, in meteorologia, in economia e anche in scienza politica, possono sempre essere annullate dall'insorgenza di fenomeni imprevisti, anche se spiegabili, nella maggior parte dei casi, ex post. La crisi economica mondiale, come sappiamo, ha obbligato a improvvisi e salutare i bagni di umiltà quegli economisti che si fidavano troppo delle capacità predittive della loro scienza. Da questi bagni di umiltà, secondo me, la scienza economica ha soltanto da guadagnare. Aggiungo un altro e ultimo fattore su questo. La previsione è resa anche difficile da quello che nelle scienze sociali si chiama il teorema di Thomas, dal nome di un sociologo che per primo ne parlò. E cioè dal fatto che noi non possiamo controllare gli effetti sociali, delle teorie sociali, una volta che queste circolino e siano conosciute. Che effetti avranno sul comportamento degli attori? Siccome parliamo di esseri umani, di esseri senzienti, e non di atomi, molecole o altro, una volta che le teorie sociali circolino e siano conosciute, possono influenzare il comportamento degli attori. Ma poiché le teorie sociali che circolano sono spesso tra di loro in competizione, noi non possiamo mai sapere in anticipo come le varie teorie influenzeranno il comportamento degli attori sociali. Detto quel che, secondo me, c'è da dire sulla previsione, veniamo ora al problema della spiegazione. Quando si tratta di questi temi, spiegazione e previsione, bisogna tenere da un lato un occhio a ciò che ci dice la filosofia della scienza, e in particolare la filosofia delle scienze sociali, ma dall'altro e soprattutto bisogna osservare la concreta esperienza di ricerca nell'ambito delle scienze sociali. Cioè non bisogna sganciare questi due aspetti, altrimenti si rischia di viaggiare sopra i fenomeni senza comprenderli. L'interpretazione ai miei occhi più convincente, a proposito di spiegazione, sostiene che spiegare, nelle faccende sociali, significhi essenzialmente individuare i meccanismi causali che sono all'opera. Per meccanismi causali si intendono sequenze di eventi causalmente connesse che si verificano ripetutamente nella realtà al verificarsi di certe condizioni. Come risulta dalla definizione che ho dato, un meccanismo causale si compone di regolarità empiriche, si è constatato che la sequenza si è verificata ripetutamente, ed ha la caratteristica di una catena causale, una sequenza di eventi connessi. La catena causale può essere molto lunga, connettere molti eventi, per esempio nella sociologia storica spesso i meccanismi causali a cui si ricorre mettono insieme una pluralità di eventi, catena lunga, oppure possono essere catene corte. La psicologia cognitiva ha individuato un gran numero di meccanismi che incidono sugli atteggiamenti delle persone. Inoltre gli eventi possono essere sociali, appunto, attinenti alle interazioni fra le persone, oppure psicologici, attinenti agli atteggiamenti degli individui e ai cambiamenti di atteggiamento degli individui. Nelle scienze come la sociologia o la scienza politica, che si occupano di macrofenomeni, i meccanismi con cui si ha a che fare sono di solito misti, ossia connettono eventi sociali e eventi psicologici. In generale, quando si studiano macrofenomeni, la spiegazione tramite meccanismi deve ricorrere a una batteria di meccanismi, a una pluralità di meccanismi. Nel fenomeno osservato, poniamo una rivoluzione, sono normalmente all'opera, contemporaneamente, molti meccanismi causali. Il termine meccanismo potrebbe dare un'impressione errata a chi ascolta, ossia potrebbe trasmettere l'idea che chi vi ricorre, per identificare i caratteri della spiegazione nelle scienze sociali, pensi che il mondo sociale sia riducibile a un meccanismo, a un insieme di meccanismi. Ma non è così. In genere, chi ricorre alla spiegazione tramite meccanismi, a differenza di coloro che restano legati all'idea della spiegazione tramite leggi di copertura, sono ben consapevoli del fatto che il mondo sociale non ha affatto quei caratteri. La spiegazione tramite meccanismi, infatti, parte dal presupposto che il principale oggetto della spiegazione siano le azioni individuali. Badate, ho detto azioni, non comportamenti. L'azione è un'azione intenzionale, mentre un comportamento può essere anche puramente reattivo. Reagisco senza pensare a che cosa voglio fare, non ci sono particolari motivi dietro il mio agire. L'azione intenzionale è, per chi adotta questa prospettiva, la particella elementare da cui bisogna partire. Parliamo di azioni individuali, di persone in carne ed ossa, con i loro variabili interessi, le loro passioni, le loro idee, eccetera. Questo ci porta a considerare l'oggetto della spiegazione. Oggetto della spiegazione nelle scienze sociali sono le azioni degli individui e le istituzioni. Poi alla fine dirò qualcosa su l'azione da un lato e le istituzioni dall'altro. Le istituzioni, che possiamo intendere in senso lato per capirci, come insiemi di regole, le regole del gioco consolidate che in qualche modo ci condizionano. Le istituzioni, a loro volta, sono il prodotto dell'azione di molti individui che aggregandosi hanno dato loro vita. Ma a loro volta, una volta consolidatesi, le istituzioni condizionano le azioni, cioè retroagiscono sugli individui condizionandone l'azione. Il riferimento alle azioni come particelle elementari della vita sociale è importante perché ci consente di considerare un altro aspetto del problema della spiegazione, soprattutto quando ci si occupa di macrofenomeni sociali. Nelle scienze sociali esiste tradizionalmente una divisione fra chi fa ricorso a spiegazioni che vengono dette in genere dagli avversari, compreso chi vi parla di questo tipo di spiegazione, vengono dette olistiche, che sono in genere ispirate all'uno o all'altra variante di correnti importanti che hanno fatto la storia delle scienze sociali come lo strutturalismo, il funzionalismo, e che spiega i macrofenomeni come prodotti direttamente da altri macrofenomeni, ad esempio spiego una rivoluzione come l'effetto di certe caratteristiche e di certe tendenze dell'economia mondiale, e chi invece ritiene che una spiegazione soddisfacente di qualunque macrofenomeno debba essere microfondata, ossia partire dalle azioni degli individui e dalle loro interazioni. Quest'ultima è appunto anche l'opinione di chi vi parla. Non riesco a spiegare alcun fenomeno complesso, o qualunque macrofenomeno, se non parto dalle azioni degli individui coinvolti e dal modo in cui quelle azioni si combinano fra loro. Pretendere di spiegare un fenomeno sociale senza microfondarlo, ossia senza ancorarlo alle azioni degli individui e le loro interazioni, significa, almeno nella prospettiva di chi vi parla, vi dico subito, su questo c'è divisione, non siamo affatto tutti d'accordo, significa lasciare la spiegazione sospesa per aria, significa, secondo me, approdare a pseudospiegazioni. Apparentemente tutto torna, ho spiegato un macrofenomeno come causato da un altro macrofenomeno e intanto sotto ci sono gli uomini che hanno agito e li perdo semplicemente di vista. I motivi delle loro azioni mi sfuggono totalmente. Ho costruito un black box, una scatola nera. Non ho davvero spiegato il fenomeno. E, di più, adottare una spiegazione di questo tipo, sempre secondo chi vi parla e sempre sapendo che altri la pensano all'opposto da me, significa trattare gli uomini, gli esseri umani, come pupazzi, pupazzi culturali o pupazzi istituzionali, completamente dominati dalle macro strutture che li circondano. Max Weber diceva la stessa cosa, sostanzialmente, quando sosteneva che la spiegazione nelle scienze sociali deve combinare la spiegazione causale da un lato e la comprensione dei motivi dell'agire delle persone dall'altro. In questa prospettiva la spiegazione di un macrofenomeno deve dunque individuare meccanismi causali che connettono azioni individuali anche migliaia, a volte milioni, di azioni individuali. Posso benissimo trovare una connessione, poniamo, fra cicli economici e flussi migratori, ma non avrò spiegato alcunché se non sarò riuscito a ricostruire le ragioni che spingono le persone a migrare e il modo in cui la loro migrazione incide sulle aspettative, i comportamenti e le scelte degli operatori economici, dei detentori, dei ruoli di autorità, eccetera, eccetera. in questa sede non posso rinontrarmi più di tanto in questo discorso, basterà dire che la spiegazione micro fondata di macrofenomeni è sempre assai complessa, deve tener conto dei condizionamenti sociali, istituzionali, eccetera, che incidono sulle scelte delle persone, sul modo in cui le loro azioni si combinano, nonché sul ruolo di mediazione svolto dalle regole istituzionali. Sono sempre presenti istituzioni quando in qualunque macrofenomeno stiamo indagando, che a loro volta influenzano l'esito aggregato. Faccio due precisazioni. La prima riguarda la questione detta dell'individualismo metodologico, perché è evidente che partire come io penso sia utile dalle azioni degli individui significa aderire a una qualche variante del cosiddetto individualismo metodologico, che è quella posizione che dice per spiegare i macrofenomeni dobbiamo partire dagli individui. Dell'individualismo metodologico però esistono diverse versioni, due soprattutto, la prima delle quali secondo me è insostenibile, è la versione secondo cui i macrofenomeni possono essere ridotti all'insieme delle azioni individuali. In questa versione i macrofenomeni non esistono, non esiste lo Stato, la società, non esiste nulla. Queste parole sono solo come dire comode abbreviazioni stenografiche che indicano un aggregato di azioni sottostanti. La spiegazione in questa prospettiva deve ridurre i fenomeni collettivi alle azioni individuali sottostanti. Io penso che questa versione non funzioni è che sia nettamente preferibile una variante debole dell'individualismo metodologico e l'unica secondo me accettabile che dice che i macrofenomeni non sono riducibili alla somma di azioni individuali o perlomeno non tutti alcuni sì ma non tutti le azioni individuali a loro volta sono condizionate anche se non determinate dalle circostanti macrostrutture e combinandosi fra loro e interagendo con le regole istituzionali vigenti determinano il macrofenomeno in esame. Tutto ciò che si richiede è che la spiegazione micro fondata una spiegazione micro fondata ossia una spiegazione che parta dai motivi delle azioni individuali per evitare appunto le scatole nere le spiegazioni sospese per aria che fanno scomparire gli esseri umani sottostanti. L'altra precisazione riguarda il carattere sempre problematico delle spiegazioni nelle scienze sociali occorre rassegnarsi al fatto che di uno stesso fenomeno sociale saranno sempre possibili diverse spiegazioni una volta scartate tutte quelle che appariranno manifestamente infondate o perché contraddette dai dati dell'esperienza o perché incapaci di individuare plausibili meccanismi causali resteranno poi comunque in gioco in molti casi più spiegazioni che a prima vista appariranno ugualmente plausibili data la complessità dei fenomeni sociali e la complessità dei problemi che si devono affrontare quando si fa ricorso alla spiegazione tramite meccanismi causali occorre accettare l'idea che siano sempre possibili differenti spiegazioni micro fondate di uno stesso fenomeno perché perché la spiegazione sarà inevitabilmente influenzata da ciò che Max Weber chiamava la relazione al valore cioè dalla selezione che all'inizio della ricerca lo studioso avrà fatto dei fattori che ritiene rilevanti ai fini della spiegazione come sempre nelle scienze sociali questa scelta sarà influenzata da una pluralità di condizioni gli obiettivi della ricerca le tradizioni disciplinari di appartenenza del ricercatore i suoi giudizi di valore eccetera non possiamo quando ci impegniamo nella ricerca scientifica non partire da un qualche punto di vista ed esso condizionerà inevitabilmente la spiegazione a cui proderemo importante però che comunque la ricerca venga condotta con rigore e con il massimo sforzo possibile di obiettività il fatto che spesso si abbia a che fare con più spiegazioni plausibili di uno stesso fenomeno sociale per esempio mi vengono in mente delle eccellenti teorie diverse che hanno fondamenti e presupposti diversi dello sviluppo del welfare state in Europa per esempio che è stato un settore in cui ci sono stati studi di altissimo livello e ho in mente delle teorie tra di loro diverse che partivano da presupposti diversi e che naturalmente approdano a spiegazioni diverse quindi io mi trovo davanti due teorie poniamo tutte e due altamente plausibili tutte e due condotte con rigore ma che arrivano spiegazioni diverse perché il ricercatore ha selezionato in modo diverso all'origine i suoi fattori rilevanti che fare in queste situazioni il fatto che spesso si abbia a che fare con spiegazioni con più spiegazioni plausibili di uno stesso fenomeno non deve però scoraggiare o ritenere l'impresa del tutto inutile non c'è bisogno di rifarsi a Popper per riconoscere che la scienza in questo caso sia sociale che naturale procede esattamente così attraverso la serrata competizione fra interpretazioni divergenti della realtà attraverso il gioco continuo della costruzione di ipotesi di ricerca di spiegazioni che in taluni casi ma non sempre aprono la strada alla formulazione di vere e proprie teorie e al costante tentativo di confutare quelle ipotesi quelle spiegazioni e quelle teorie esplicative siccome rimane un po' di tempo faccio prima di tutto una considerazione a proposito del termine teoria che ho introdotto qua e là uno dei maestri della scienza politica italiana Giovanni Sartori che tutti voi lo conoscete molti di voi lo conoscono soprattutto per la sua attività pubblicistica ma in realtà Sartori ha scritto degli importantissimi testi di teoria della scienza politica e di metodologia delle scienze sociali soprattutto negli anni 50-60 e Sartori metteva per esempio me politologo in erba in guardia contro l'uso forzennato della parola teoria la parola teoria piace agli studiosi perché nobilita quello che si sta facendo o dispongo di una teoria è accidenti dispongo di una teoria mica tutti se lo possono permettere il risultato è che la parola teoria è una parola inflazionata e che vengono definite teorie anche quelle che teorie non sono non solo ma peggio ancora nelle scienze sociali c'è la deprecabile abitudine di applicare la parola teoria a cose diversissime trovate per esempio la parola teoria applicata a un insieme di modelli la cosiddetta teoria dei giochi un insieme di modelli matematici per spiegare il comportamento strategico in realtà sono modelli matematici e non una teoria ma la parola teoria è usata per coprire il campo oppure addirittura è peggio la parola teoria è usata per indicare un intero ambito disciplinare per esempio la teoria delle organizzazioni complesse non esiste la teoria delle organizzazioni complesse esistono molte diverse e fra loro in competizione teorie delle organizzazioni complesse in questa confusione è difficile raccapezzarsi raccapezzarsi sfrondati gli usi impropri possiamo dire restiamo con sostanzialmente due usi possibili della parola teoria la prima indica forse la più corretta una teoria empirica cioè un insieme di proposizioni linguistiche che ci danno una spiegazione causale di un qualche fenomeno c'è un altro modo però di usare teoria non scorretto che è diverso la teoria sarebbe in questo caso il framework teorico di partenza dello studioso quello che serve allo studioso per elaborare i suoi modelli costruire le sue ipotesi di ricerca quindi quando vi imbattete in qualcuno che dice che vi parla di una teoria chiedetegli in che senso usa il termine sperando di non metterlo in imbarazzo naturalmente se non avesse fatto studi di metodologia delle scienze però in questo caso sarebbe colpevole perché se si occupa di scienze sociali deve anche essersi occupato di questo l'altra considerazione è sul tema azioni e istituzioni le considerazioni faccio adesso per spiegare l'azione noi disponiamo di molte ahimè teorie perché vengono chiamate teorie anche se come vi ho detto non lo sono quella che suscita più dibattito e polemica è la teoria della scelta razionale la teoria della scelta razionale è un portato è un derivato dell'economia dell'economia neoclassica e in particolare della teoria economica neoclassica del consumatore e spiega l'agire come massimizzazione di preferenze dati data una conoscenza perfetta della situazione in cui si opera l'attore compie scelte che servano a massimizzare la sua soddisfazione data una gerarchia di preferenza dell'attore stesso ovviamente nessuno di noi è così nella realtà nemmeno chi va al supermercato per comprarsi qualcosa guarda davvero tutti i prodotti e poi fa un'analisi accurata qualità prezzo alla fine dopo un po' uno prende il prodotto che gli sembra migliore attraverso una valutazione all'ingrosso e adatto alle sue tasche non c'è nessun essere umano si comporta così ma naturalmente i teorici della scelta razionale lo sanno benissimo dicono soltanto questo è un parametro una pietra di paragone rispetto alla quale misurare i comportamenti reali degli attori ora la teoria della scelta razionale viene spesso esorcizzata o demonizzata per una ragione sbagliata perché si crede che l'attore di cui parla la teoria della scelta razionale sia un egoista razionale cioè un attore che cerca di massimizzare il proprio interesse personale a rigore non è così le preferenze dell'attore possono anche essere tutte altruistiche il problema e gli resta un massimizzatore se le sue preferenze sono ordinate sono gerarchicamente ordinate egli agisce in funzione della soddisfazione delle sue preferenze eventualmente altruistiche quindi questo tipo di obiezione non funziona non coglie il punto il punto vero è che la teoria della scelta razionale che è sempre secondo me la teoria da cui partire per poi scoprire che non funziona nelle varie situazioni è che è utilissima quando si tratta di spiegare le azioni in contesti istituzionali altamente stabili cioè quando le regole del gioco sono consolidate allora possiamo guardare ai comportamenti degli attori alla luce della teoria della scelta razionale se il contesto invece è instabile fluido la teoria della scelta razionale non ci serve questa è una delle ragioni per le quali per esempio in scienza politica la teoria della scelta razionale ha dato ottimi risultati nello studio dei comportamenti parlamentari dei parlamenti occidentali cioè dei parlamenti che sono consolidati sono istituzioni solide i parlamenti il congresso degli Stati Uniti il Parlamento la Camera dei Comuni in Gran Bretagna ma il Parlamento italiano sono istituzioni solide con regole del gioco che non cambiano facilmente vischiose ecco quando si lavora su contesti istituzionali di questo tipo allora la teoria della scelta razionale diventa un utile strumento perché possiamo scontare tutta una serie di elementi l'informazione imperfetta con cui l'attore normalmente ha a che fare possiamo scontare le condizioni di rischio che invece si danno laddove i contesti sono fluidi e mobili la teoria della scelta razionale in quel caso funziona dove i sostenitori di questa teoria sbagliano è nel pretendere di utilizzarla anche quando si ha a che fare con contesti altamente fluidi e dinamici perché lì l'attore non riesce a gerarchizzare le sue preferenze perché ha informazioni lacunose e spesso distorte che è la situazione normale in cui tutti noi ci troviamo se non conosciamo bene il campo del gioco io faccio parte di un dipartimento universitario da sempre da quando sono entrato in università lì mi muovo posso muovermi come un attore razionale conosco bene le regole del gioco e le regole sono regole strutturate perché il mio dipartimento è un vecchio dipartimento che ha consolidato le sue regole del gioco in certe situazioni quando serve mi muovo come un attore razionale quando c'è per esempio da lottare su fondi di ricerca le solite cose su cui lottano i docenti universitari nei dipartimenti universitari di tutto il mondo ma se mi trovo in un contesto fluido o in un contesto di cui non conosco le regole del gioco la teoria della scelta razionale non riesce non illumina il mio comportamento devo ricorrere ad altri tipi di teorie qui non posso dilungarmi ma se ci sarà qualche domanda su questo lo farò molto volentieri sulle varie teorie dell'azione che abbiamo a disposizione quello che però posso dire è che a mio giudizio è sbagliato sposare una singola teoria sia essa la teoria della scelta razionale la teoria della razionalità limitata di Herbert Simon e altre teorie è sbagliato sposarne una una volta per tutte conviene utilizzare l'una o l'altra sto usando sempre la parola teoria in modo improprio cioè mi mi devo subire la violenza dell'uso consolidato dei termini utilizzerò l'uno o l'altro teoria a seconda del contesto che sto osservando ultima cosa ultimo tema le istituzioni quando io vado a spiegare situazioni sociali mi imbattono nelle azioni degli individui e in istituzioni che sono presenti le istituzioni sono essenzialmente regole o norme regole non scritte a volte anche scritte ma spesso molto spesso non scritte e spesso le regole non scritte sono più importanti di quelle scritte formali o informali avremo un'istituzione quando ci sono queste regole ma anche quando i comportamenti dei più si conformano alle regole non abbiamo un'istituzione se ci sono regole e nessuno si interessa di quelle regole se non le segue quindi un'istituzione ha una dimensione normativa regole un insieme di regole formali o informali e una dimensione comportamentale la maggior parte delle persone segue le regole e in più esiste un qualche tipo di meccanismo sanzionatorio delle violazioni delle regole la sanzione può anche essere morale la riprovazione sociale dei più oppure può essere fisica pecuniaria ma un sistema un meccanismo di sanzioni deve esistere un meccanismo sanzionatorio deve esistere le istituzioni sono di vario tipo noi in realtà le attraversiamo continuamente siamo condizionati da un gran numero di istituzioni senza neanche saperlo e senza farci se non ci se non facciamo il mestiere che faccio io oppure se per qualche ragione non siamo costretti a a occuparcene un'istituzione può anche essere semplicemente una convenzione sociale e noi siamo condizionati da mille da tanti convenzioni sociali nel corso della nostra giornata è data da un insieme di regole osservate dai più e chi non le osserva è sanzionato scatta la riprovazione morale degli altri se io incontro un mio conoscente lo saluto e lui non mi risponde in quel momento mi rendo conto che esiste una convenzione che dice che bisogna salutare i conoscenti e scatterà anche la mia riprovazione morale nei confronti di questo signore che ha platalmente violato una convenzione generalmente accettata quindi anche una convenzione sociale sto sforando una convenzione sociale è un'istituzione se è consolidata e se i più la osservano ma ci sono istituzioni molto più complesse di così non tutte le organizzazioni sono istituzioni ma molte organizzazioni che non muoiono in fasce le organizzazioni hanno un altissimo tasso di mortalità infantile sono più le organizzazioni che muoiono appena nate di quelle che sopravvivono quelle che sopravvivono anche perché le organizzazioni che nascono in genere nascono in un ambiente già saturo di organizzazioni e devono lottare per affermarsi è una sorta di lotta darwiniana per la sopravvivenza le organizzazioni che sopravvivono nel tempo attraversano un processo che viene definito di istituzionalizzazione cioè diventano si consolidano normalmente capiamo che un'organizzazione è diventata un'istituzione nel momento in cui per i suoi aderenti ha acquistato un valore per se stessa all'inizio quando qualcuno dà vita a un'organizzazione lo fa perché vuole ottenere un certo scopo vuole perseguire una causa oppure perseguire uno scopo economico non importa c'è uno scopo quindi l'organizzazione a cui dà vita ha per lui un carattere esclusivamente strumentale per lui e per gli altri che partecipano serve per raggiungere uno scopo per perseguire una causa e così via se l'organizzazione si consolida però cioè se si istituzionalizza cioè diventa un'istituzione l'organizzazione comincia ad avere anche un valore per se stessa si sviluppano delle lealtà forme di attaccamento all'organizzazione in quanto tale cioè non si rimane più solo legati alla causa che si deve perseguire ma anche all'organizzazione la causa i valori su cui è nata l'organizzazione vengono incorporati nell'istituzione l'istituzione acquista importanza per se stessa agli occhi di coloro che ne fanno parte quando una istituzione dicevo il tasso di mortalità infantile è alto tra le organizzazioni ma dopo le organizzazioni tendono all'immortalità se superano questo passo ci sono organizzazioni che durano da secoli e secoli io faccio parte dell'università di Bologna che è una organizzazione che superata la fase iniziale si è istituzionalizzata e dura da un po' di tempo ma questo è vero per tantissime altre organizzazioni pensate agli stati oppure altre organizzazioni che nascono che sono nate ci sono per parlare di un ambiente così competitivo come quello dei sistemi di partito partiti politici che esistono da da un centinaio di anni e passa che hanno un secolo di vita o più di un secolo di vita il partito socialdemocratico tedesco è un partito forte e solido che che esiste dalla metà dell'ottocento quindi le organizzazioni tendono all'immortalità perché accade questo perché questo accade e perché accade quel fenomeno raro ma quando si verifica porta l'organizzazione verso un consolidamento molto forte perché una parte delle azioni che hanno dato vita delle azioni intenzionali che hanno dato vita all'istituzione si trasformano in comportamenti di routine cioè io l'istituzionalizzazione presuppone che una parte delle nostre azioni legate all'istituzione diventino comportamenti di routine comportamenti che non mettono che non si pongono più il problema dell'istituzione e che ne seguono le regole in modo semiautomatico in modo quasi inconsapevole se non c'è una riserva di lealtà esplicite da un lato e di comportamenti di routine dall'altro lato l'organizzazione non si consolida non si stabilizza ma se questa lealtà da una parte e comportamenti di routine dall'altra si manifestano allora l'istituzione diventa fortissima a dispetto anche di sfide esterne che possono apparire a volte devastanti e vediamo istituzioni che si trasformano a seguito di sfide ma che mantengono inalterati molti caratteri tenete conto di un'altra cosa e termino su questo le istituzioni con cui abbiamo a che fare quando vogliamo spiegare i macrofenomeni se voglio costruire come fece la sociologa Ted Scotspol una teoria delle rivoluzioni moderne devo studiare una serie di casi di rivoluzioni e mettere in gioco il ruolo delle azioni dei contadini dei militari e così via nelle varie situazioni e il ruolo delle istituzioni cioè delle regole del gioco che prevalevano nella fase pre-rivoluzionaria quindi nella spiegazione di macrofenomeni sociali non si può eludere il problema delle regole del gioco quindi che come ho detto sono poste in essere da istituzioni le istituzioni dicevo quando si consolidano hanno una vita lunga e una fortissima stabilità naturalmente quando incontrano delle sfide si trasformano l'università di Bologna certamente non è l'università di Bologna delle origini lo stato italiano di oggi non è lo stato italiano delle origini ma attenzione se si guarda una istituzione con attenzione si scopre che ci sono elementi della sua origine che perdurano pur nelle trasformazioni il passato anche in un'istituzione che si sia trasformata a seguito di sfide che ha dovuto fronteggiare il passato continua a vivere nell'istituzione se voi prendete per esempio lo stato italiano e lo esaminate con nella prospettiva propria dei geologi voi potete vedere per esempio che il complesso normativo dello stato italiano repubblicano oggi si compone di strati ci sono strati recenti gli strati recenti sono le norme le leggi i regolamenti prodotti nell'età repubblicana ma se risalite trovate strati di norme che risalgono al periodo fascista e se risalite ancora trovate strati di norme che risalgono all'età giolittiana e ancora prima e in realtà se fate un'attenta come hanno fatto gli storici delle istituzioni attenta ricostruzione scoprirete che ci sono norme che regolano la nostra vita di italiani qui e ora che risalgono agli stati italiani preunitari quindi nell'istituzione stato italiano giocano regole che si sono stratificate nel tempo certo lo stato italiano è cambiato moltissimo così come tutti gli stati cambiano nel corso del tempo ma ci sono elementi tuttora vivi nella istituzione che risalgono all'antico passato e che ci consentono di capire com'era l'istituzione nella sua fase originaria e come quegli elementi originari sono stati in grado di arrivare fino a noi termino qui per lasciare un po' di spazio eventualmente a domande grazie 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 a tutti